Scendono in pista Valentina e Ermanno. E' proprio vero che dopo i 40 è meglio fermarsi. C'ho il fiatone. Valentina e Ermanno, categoria 12-13 anni, classe B2 e prossimi però la categoria B1. Per voi Valter Lento. Moon river, why do you let them all? I'm crossing you inside some days. Oh dream maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two dreamers have to see the world. There's so much a lot of the world to see. We're after the same road. Oh dreamers have to see the world, waiting around the bed, my hopeful very friends. We're forever and here. Bravissimi, Valentina e Ermanno. Adesso? Grazie. Grazie. Grazie.